Buongiorno. Buongiorno. Partiamo dall'inizio. Un inizio ancora prima del tuo inizio, diciamo. Volevo chiederti come erano i tuoi genitori, cosa facevano prima che tu nascessi e quando poi sei nato, che genitori sono stati, cosa avete condiviso, ma anche che cosa vorresti aver condiviso con loro che non hai potuto condividere. Io sono nato da un padre pittore che stava lavorando qui a Trivero, nel bielese, per un grande lavoro sull'arte della lana nel Medioevo per Ermini Gildo Zegna. Mia madre voleva imparare a dipingere, ha saputo di questo artista e ha chiesto di poter avere delle lezioni. si sono incontrati, si sono piaciuti e sono nato io. Si sono sposati, sono nato io. Quando mio padre ha finito di realizzare quest'opera piuttosto grande, ha impiegato un paio di anni, loro sono andati a Torino con me dietro, portandomi con loro, ovviamente, e quindi all'età di un anno io ero a Torino. A Torino ho sviluppato tutto il mio processo scolastico proprio primario, però sempre vivendo nello studio di mio padre, perché lo studio era, diciamo, connesso con la casa e quindi vivevo proprio dell'odore, dei colori olio e anche a volte mescolato con l'odore della cucina. Tant'è che quando mio padre faceva le nature morte, per esempio, che erano composte da, per esempio, pesci, uccelli, non so, funghi, e quando mio padre aveva finito un particolare, mia madre lo prendeva e lo cucinava. Ecco che, diciamo, c'era questa cucina artistico-culinaria in casa. Quindi è stato naturale per me essere così avviato verso le arti. All'età di 14 anni ho cominciato a lavorare con mio padre al restauro di quadri antichi, perché mio padre a Torino aveva anche un laboratorio di restauro, oltre al suo studio di pittore, e quindi lavorando con il restauro e avendo avuto con lui un lungo tirocinio anche, diciamo, di scuola della pittura tradizionale, ho avuto una base molto, molto decisa, molto, molto spessa, considerevole sull'arte antica. però mia madre quando io ho compiuto 18 anni ha detto a mio padre secondo me il futuro sta nella pubblicità, il passato è una bella cosa, ma guardiamo il futuro, e mi ha iscritto nella scuola di pubblicità di Armando Testa che si stava aprendo a Torino. Armando Testa ha detto subito per prima cosa se volete fare il mestiere del pubblicitario dovete prima di tutto conoscere molto bene l'arte moderna. E allora lì ho conosciuto l'arte moderna. Mio padre aveva rifiutato di mandarmi all'accademia perché pensava che l'arte moderna fosse qualche cosa di abominevole in qualche maniera rispetto a quello che era la sua conoscenza artistica. però io ho studiato l'arte moderna e questo è stato molto importante perché ho capito che tutto quello che era accaduto prima di oggi, prima di quel momento, era stato un processo molto molto lungo che portava però a una autonomia dell'arte che non aveva mai avuto prima. l'arte è sempre stata a servizio di un pensiero o religioso o politico. Ecco che mia madre avendomi iscritto in questa scuola di pubblicità mi ha aperto l'altra parte del mio processo di evoluzione. Quindi padre e madre insieme mi hanno dato questa possibilità di connettere passato e futuro. E questi anni del periodo scolastico come come ti relazionavi alle figure diciamo di autorità che permeavano ancora e per meno l'ambiente scolastico i professori la preside ma anche forse una tradizione di studio basata sui voti sulla valutazione oggettiva di un lavoro tu come ti relazionavi a questo tipo di sistema o come ti relazioni oggi? Io ho accettato la vita così com'era quindi non ho potuto assolutamente mettere niente di mio fin quando non ho capito pian piano com'era la vita. Mi sono accorto via via fin da bambino proprio dalle elementari che le proposte di insegnamento erano molto molto buone molto alte di livello si parlava del bene comune si parlava del giudizio si parlava del buon comportamento ma vedevo poi che nella pratica gli esempi erano diversi erano contrari poi c'era un insegnamento molto molto rigido sia sul piano religioso che sul piano politico che influivano sulla scuola perché da una parte si insegnava il credo in Dio e dall'altra il credo in Mussolini ed erano quasi identici quindi la dipendenza la dipendenza dal sistema che osservandolo portava a un'ubbedienza totale che l'ubbedienza che era scritta sui muri delle città era credere obbedire combattere pensare no responsabilità individuale no la responsabilità era quella di accettare e dedicare la propria vita a qualche cosa che era assolutamente dogmatico e dettato che chiedeva proprio il tuo sacrificio tu dovevi sacrificarti a qualsiasi idea fosse stata imposta questa cosa era molto come dire turbante perché lavorando poi nell'arte anche se l'arte era antica lavorando diciamo vivendo con mio padre l'arte anche se era antica era fatta di intelligenza dinamica di libertà di espressione di capacità di invenzione e quindi non era coerente il fenomeno artistico con quello che stava accadendo sul piano sociale non me ne rendevo conto ma c'era un turbamento di fondo quando ho conosciuto l'arte contemporanea l'arte moderna ho visto che l'artista aveva estratto dal sistema sociale una autonomia totale cioè questa libertà di assumere responsabilità personale portata al massimo livello e quindi per me l'arte moderna è significato è stata significante nel portarmi verso una responsabilità del mio segno del mio atto del mio pensare pensando che l'artista poteva veramente in qualche maniera supplire a quelle che erano state le pesanti esperienze di un passato ante guerra parlo prima della seconda guerra mondiale del dopo guerra della guerra fredda il contrasto tra il mondo dell'est e il mondo dell'ovest capitalismo comunismo quindi l'arte come elemento di riattivazione di ripensamento di responsabilità che l'artista doveva assumere su se stesso questo mi porta allora a chiederti di raccontarci qualcosa sul periodo dei movimenti socioculturali rivoluzionari del 68 e come questo è stato parte del tuo processo personale ma anche artistico e come si manifestava questa energia di cambiamento proprio qui in Italia e cosa abbiamo imparato cosa forse non ha funzionato attraverso quel periodo rivoluzionario il 68 è stato veramente un momento di grande sogno un grande sogno specialmente dei giovani che sentivano che questo sistema di contrasto est e ovest e nello stesso tempo questo sistema consumistico che diventava veramente un coercitivo rispetto a qualsiasi interpretazione come dire di un vissuto che non fosse totalmente imposto da un consumo totale quotidiano da una parte da una parte chiamato democrazia dall'altro chiamato dittatura comunista il consumo nella dittatura comunista è stato assunto dal governo e chi lavora chi lavorava non non aveva libertà di interpretazione di iniziativa come nell'occidente e quindi c'era un solo padrone questa idea di superare il capitalismo era data dall'idea che il solo padrone era il governo questa molteplicità inscatolata nel sistema consumistico da una parte e questa popolazione connessa concentrata in una sola ditta che era quella del governo erano due condizioni opposte che richiamavano a una riconsiderazione questo spontaneamente veniva a galla in questo mare torbido della società mondiale era già una situazione diciamo di di natura globale ma complesse divisa e contrastata quindi i giovani si sono riversati per strada e hanno cominciato a parlare di fate l'amore e non fate la guerra quindi è già proprio l'idea di eliminare il conflitto un grande sogno da parte mia da parte dell'arte che poi era nata l'arte povera proprio nel 67 e si trattava di arrivare a una essenza cioè povero non voleva dire senza soldi oppure mancante di qualcosa povero voleva dire essenziale vuol dire arrivare ai fenomeni primari necessari per la vita per rigenerare la società ecco che io avevo in quel momento aperto con un manifesto il mio studio nel 67 con un manifesto che diceva chi vuole artisti di qualsiasi tendenza qualsiasi genere voglia venire nello studio lavorare insieme agire presentarsi nel mondo questo è quanto propongo e abbiamo avuto molti incontri e il mio studio è diventato il punto di appuntamento è diventato il luogo d'appuntamento per cominciare a lavorare insieme e mettere insieme le diverse arti e produrre una situazione nuova che non è più quella di un artista singolo ma di artisti che lavorano con le diverse culture artistiche insieme e la cosa che abbiamo dovuto fare inevitabilmente per poter sviluppare questo processo è stato uscire per strada e fare l'attività di artista diciamo congiunta interconnessa nei luoghi che erano diciamo a nostra disposizione fuori dalle istituzioni quindi siamo usciti dalle istituzioni e per questo che è nato lo zoo abbiamo chiamato lo zoo perché zoo vuol dire tanti animali in una gabbia i tanti animali erano le diverse culture artistiche e la gabbia era quella da cui noi uscivamo quindi lo zoo liberiamo lo zoo ed erano anche momenti in cui si stavano liberando gli zoo si era eliminato proprio il concetto di zoo in il sistema di zoo in Italia c'era un momento di apertura di liberazione ma poi il sogno è durato poco perché negli anni settanta tutto si è trasformato in politica politica dura con le brigate rosse e tutto quello che ne è seguito e quindi il sogno è diventato un incubo e invece volevo portare la conversazione sull'idea proprio di amore l'amore romantico l'attrazione verso l'altro che viene spesso narrata con una ricerca dell'opposto o di ciò che si dovrebbe essere ma ancora non siamo di qualcuno che ci potrebbe completare o che ci metterà in gioco e da lì il detto gli opposti si attraggono e tu e la nonna Maria come vi siete innamorati e chi siete voi come amanti come opposti e cos'è lei che tu non sei ma che vorresti essere e come è stato lavorare insieme adesso la parola amore è omnicomprensiva per cui la puoi declinare in tantissimi tantissimi modi tu hai detto bene parlando di connessione tra due elementi per esempio il maschile e il femminile o che possono essere quelli che creano una famiglia che creano che creano veramente perché dalla congiunzione di maschile e femminile lascia una persona che non esisteva quindi il processo naturale dell'esistenza richiede questo contatto quindi la creazione è traducibile nel senso di amore io poi sono arrivato alla formula della creazione però lì è già significativo il punto di dualità bisogna sempre essere in due non è possibile non è possibile per una persona essere sola tanto più che si vive nella società siamo parte di una grande massa di persone ecco ma per esempio per unire le persone in maniera efficace perché ci sia un'intesa tra le persone gli esseri umani hanno creato una terza persona che per esempio è una divinità che allora si dice l'amore in Dio perché questo amore verso questa divinità significa far ricadere poi la dualità su tutti gli altri questo mi sembra che avvenga dai tempi più remoti in tutte le forme di religione quindi la religione ha un senso molto preciso ed è importantissima perché la parola religione vuol dire religare religare vuol dire unire vuol dire mettere insieme e quindi l'umanità deve assolutamente sentirsi unita deve sentire che le persone sono insieme il senso umano deve avere come risposta l'incontro tra le persone per poter organizzare il proprio pensiero e il pensiero comune quindi anche politica quindi religare vuol dire anche fare politica mettere insieme però stiamo attenti perché poi accade sempre che il religare si traduca in relegare relegare vuol dire invece chiudere in situazioni in situazioni diciamo compartimentate e queste situazioni compartimentate producono poi anziché una contrapposizione risolvibile risolvibile positivamente risolvibile tra vari vari gruppi porta invece al conflitto conflitto di potere il conflitto di dominio e questo è avvenuto nelle religioni e nelle politiche sempre quindi quindi oggi ci troviamo davanti alla necessità di capire se vogliamo proseguire in questo modo oppure dare al concetto di amore il senso di una creazione sostenibile equilibrata è armonica ecco questo è quanto non so se la tua domanda era questa la mia risposta è questa ok e quindi partendo da questa tua risposta possiamo anche pensare proprio al processo del collaborare del lavorare insieme Città dell'Arte Fondazione Pistoletto è fondata su questo costante scambio e intreccio di idee di pratiche su questo processo collaborativo a lungo termine e come dicevi prima pratiche distinte che insieme ne creano di nuove può secondo te esistere una conformazione organizzativa collaborativa in cui il potere è distribuito orizzontalmente anche al di fuori delle istituzioni artistiche e come può esistere e funzionare abbiamo parlato dell'uscita dallo studio uscita dalle istituzioni abbiamo parlato del famoso 68 ecco noi artisti con lo zoo siamo usciti in strada abbiamo creato qualcosa che potremmo definire una forma di teatro perché mettendo insieme tutte le arti si finisce per fare qualcosa che ha già un nome che si chiama teatro perché nel teatro c'è il corpo umano c'è lo spazio c'è il tempo c'è la luce c'è la la parola c'è il movimento c'è la musica c'è tutto ecco che questo teatro che noi abbiamo fatto con lo zoo è un teatro che si inserisce e rispecchia immediatamente direttamente la società la società che si rispecchia nel proprio agire artistico ecco che a lungo andare molte cose sono accadute però poi è nata la città dell'arte qui a Biella città dell'arte è una parola significativa perché si parla non soltanto di un edificio si parla di città e la parola città è intesa anche in un senso molto più vasto nel senso di civiltà quindi città dell'arte per una civiltà dell'arte dunque l'arte diventa centrale nell'impegno di trasformazione e di rigenerazione di questa società che purtroppo ricade sempre nei sistemi del conflitto e questo è e quindi l'idea di pace preventiva che si sta sviluppando anche proprio qui a città dell'arte allora come ho inteso io città dell'arte ho inteso un luogo in cui si potesse realizzare tutto quello che si pensava di dover realizzare uscendo dalle istituzioni negli anni 60 nel 67 68 uscendo dalle istituzioni quindi è un'istituzione che permette di rimanere fuori dai sistemi coercitivi diciamo da cui noi abbiamo tentato di uscire e produrre nuova società ecco questo mi sembra cioè uscire per rientrare e rientrare per uscire la necessità di fondo è quella di avere degli organismi che hanno delle regole le regole le stiamo le stiamo mettendo insieme pezzo per pezzo ma devono essere le regole che portano all'equilibrio e all'armonia e quindi non permettono lo sviluppo del conflitto il conflitto c'è sempre di fondo perché sempre come abbiamo detto c'è il maschile e il femminile ma ci sono poi tutti gli elementi diversi contrastanti c'è il polo positivo e il polo negativo sono là sempre attivi e che cosa fanno? creano l'energia quindi noi dobbiamo sapere che abbiamo la capacità ormai di dominare il sistema di produrre energia e quindi un'energia culturale un'energia sociale e un'energia politica ma anche è proprio l'energia fisica che oggi deve sostituire il sistema dell'energia ricavata con i fossili con il carbone con il petrolio con il gas che sono quelli che stanno inquinando il pianeta quindi è nato questo concetto di terzo paradiso dove il primo paradiso è quello naturale di quando eravamo totalmente integrati nella natura e il secondo paradiso è quello artificiale che abbiamo creato via via partendo dal morso della mela come esempio diciamo rappresentativo antico e storico del morso della mela che rappresenta lo strappo dell'essere umano dalla natura oggi questa questa mela naturale è diventata totalmente artificiale lo dimostra il fatto che è diventata simbolo marchio di un di un sistema tecnologico dove la natura è totalmente scomparsa adesso dobbiamo prendere la tecnologia la scienza e far sì che rimettano la loro funzione in contatto con la natura per rigenerare la natura quindi è il terzo paradiso il terzo stadio primo paradiso naturale secondo paradiso artificiale terzo il paradiso che mette insieme natura e artificio i primi due e dunque il terzo quindi è un grosso lavoro un momento di passaggio epocale che coinvolge tutta la società umana noi con la nostra grande presunzione di artisti perché l'artista presume di poter creare qualche cosa e lo fa e quindi noi dalla presunzione di poter far qualcosa al fare il passo è breve anzi stiamo facendo e stiamo lavorando per produrre una rigenerazione della società quest'anno è l'anniversario il trentesimo anniversario della fondazione e quindi arte al centro che è stato uno dei primissimi atti le primissime operazioni fatte a Città dell'Arte arte al centro di una trasformazione sociale responsabile è l'avvenimento che quest'anno compie appunto trent'anni Città dell'arte però è nata nel 91 quando ho acquisito questo spazio qui a questa ex fabbrica tessile qui a Biella con l'intenzione di creare un luogo dove l'arte cioè un laboratorio una scuola dove l'arte si congiunge con la società per creare una nuova dimensione comune sociale a livello sconfinato fuori dai confini di questo luogo stesso però quando io ho detto con un manifesto che ho pubblicato nel 94 presentato a Pistoia ho detto che con questo manifesto l'arte e l'artista si assumevano la responsabilità di connettere tutti i settori della vita sociale oltre a quelli artistici cioè dalla politica all'economia dalla religione all'educazione al comportamento hanno detto sì è una bella utopia è pura utopia io ho detto non è utopia quella che sto proponendo perché utopia vuol dire non luogo invece io ho acquisito a Biella un luogo e quindi questo luogo c'è e vi sto presentando il progetto arte quindi c'è il luogo c'è il progetto adesso c'è da fare un lavoro come quello che si fa quando c'è il luogo e il progetto architettonico e facciamo questa architettura nuova che è l'architettura di una nuova società partendo dal luogo quindi l'utopia che è necessaria è necessaria per partire per dare impulso però deve trovare il luogo e il progetto e realizzarli e noi questo lo stiamo facendo in questo trentennale possiamo dire di avere fatto alcuni passi anche perché ormai ci sono più di 200 240 ambasciate della città dell'arte nelle varie parti del mondo quando ci parli di responsabilità viene molto anche da pensare alla possibilità di rendersi responsabile di una certa condizione di un certo spazio del proprio quartiere della propria famiglia a volte ci sono dei sistemi sociali creati apposta per diciamo togliere l'abilità agli esseri agli umani e ai cittadini di rendersi responsabili di se stessi ma anche della libertà al benestare altrui e quindi vorrei chiederti che cos'è per te la libertà e come si manifesta la libertà all'interno della pratica di un artista come può essere libero soprattutto rispetto alle richieste del mercato beh la domanda è pertinente ma complessa potremmo ripartire dal concetto di libertà dell'artista che è quello da cui sono partito io l'artista è libero di produrre il proprio segno il proprio la la propria mettere la propria firma come garanzia una firma in questo senso diventa anche un marchio diventa una bandiera e quindi è una responsabilità molto grossa quella di porre un marchio di creare una bandiera la bandiera è un marchio politico poi ci ci sono le bandiere diciamo delle delle ditte delle organizzazioni economiche che si chiamano marchi l'artista fa il suo marchio ma l'artista non può fare il proprio marchio al di fuori di quelle che sono le strutture del vivere e quindi deve sapere che lavora l'artista lavora sul concetto stesso di marchio e di bandiera e quindi deve assumersi la responsabilità che si assume sia una ditta che uno stato l'artista qui città dell'arte c'è una bandiera che ho realizzato io con un simbolo una formula che è la formula trinamica la dinamica del numero 3 che ho chiamato ho chiamato prima terzo paradiso come ho spiegato un attimo fa natura artificio e connessione e autonomia di diciamo di 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 attività individuali unendo sempre i due elementi da parte di tutti quindi la responsabilità dell'artista in primis però questo 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 con questa connessione deve diventare scuola deve essere capita deve essere alla base di di del modo di concepire la propria vita d'ora in poi a partire dall'infanzia e naturalmente c'è uno stadio importante che è quello che sviluppiamo qui a Città dell'Arte fin dal principio che è l'accademia un'idee un'idee vuole dire università delle idee e quindi le idee sviluppate come capacità elementare del pensiero umano avere idee non soltanto sottostare alle idee di qualcuno sottostare le idee di qualcuno vuol dire che quel qualcuno qualcun altro ha la libertà di avere idee e di proporre soluzioni che tu devi come dire seguire devi sempre tornare a credere ubbidire e combattere quindi questa cosa che io ho trovato da ragazzo che era mostruosa si ripete continuamente ecco che attraverso la via dell'arte e attraverso Città dell'Arte io penso che si debba fare un lavoro scolastico proprio di mutazione del pensiero di fondo che sta nel mettere insieme le cose in maniera tale che non producano conflitto ma producano armonia e equilibrio l'equilibrio in arte in più non è un equilibrio statico come un dogma non è mai dogma perché il dogma è fissa una morale la morale deve essere sempre viva e seguire le necessità più più profonde e meno note in qualche maniera sempre scoperte la scoperta è molto importante pensa all'importanza che abbiamo oggi al concetto di scoperta la scoperta scientifica la scoperta tecnologica che ci porta a un mondo totalmente nuovo quindi abbiamo una responsabilità scientifica una responsabilità tecnologica nel sapere dominare la scoperta e scoprire come dominare la scoperta e questo è un mondo totalmente nuovo che è venuto crescendo nel ventesimo secolo e a questo punto può portarci a delle soluzioni meravigliose a un mondo nuovo meravigliose o al disastro totale perché l'uso delle scoperte per esempio la scoperta atomica ci ha portati alla possibilità di distruzione totale l'uso della tecnologia più avanzata può portarci a un disastro altrettanto grande visto che tutti dipendiamo da questo organismo che qualcuno può in qualche maniera manovrare a piacimento quindi si possono paralizzare delle intere società così come attivare la società intera quindi siamo in un momento di responsabilità individuale ma non più isolata ogni individuo ha una responsabilità individuale che deve condividere con gli altri abbiamo realizzato a città dell'arte un sistema anche sociale che si sviluppa proprio nella città di Biella nella città di Biella pensata come città arcipelago dove la città di Biella è addirittura la provincia di Biella fatta di 74 comuni ma i 74 comuni sono delle isole in un mare verde che è il mare della natura le montagne i prati le campagne i fiumi i torrenti i laghi le resaie ecco ecco che la città diventa inclusiva della natura ecco perché si chiama arcipelago il nostro progetto Biella città arcipelago che è fatta di un grande territorio quello che era la provincia allora come poi organizzi questa questa città come organizzi di questa città praticamente la organizzi con un sistema che abbiamo individuato ormai da tempo ed è il sistema della demopraxia cioè della demopratica come si pratica l'ideale democratico si pratica attraverso le strutture esistenti che sono prima di tutto le imprese ogni impresa è una piccola organizzazione politica perché ogni impresa è un piccolo governo ma due persone una famiglia è già un'impresa si devono mettere d'accordo si devono organizzare sul comportamento giornaliero quotidiano annuale stagionale ma questo lo deve fare lo deve fare qualsiasi impresa che sia artigianale che sia che sia diciamo una fabbrica che sia un'impresa di tipo sociale deve essere sempre chiaro evidente dobbiamo sapere che ogni impresa è un piccolo governo ma ogni piccolo governo ha bisogno poi di considerare l'altro piccolo governo e tanti piccoli governi sono diversi e quindi bisogna organizzare quelle cose che stanno tra i vari governi e quindi sono le azioni che noi realizziamo a Città dell'Arte con i forum di questi piccoli governi e mettendo in evidenza ogni volta per ogni forum un argomento molto preciso sono gli argomenti di fondo sono pochi non sono tantissimi sono per esempio l'energia oggi come noi in questa città riusciamo a renderci autonomi producendo la nostra propria energia pulita se una città arcipelago che è piuttosto già grande può risolvere questo problema è connessa con altri arcipelaghi di altre città arcipelago che possono avere strutture completamente diverse da questa non importa dipende del luogo però tra questi arcipelaghi ci sarà qualcosa da combinare insieme così come si deve combinare insieme qualcosa tra le diverse imprese e quindi si può creare un concetto di governo veramente partecipato condiviso e soprattutto responsabile nella sostenibilità che è ormai diventata inevitabile se vogliamo che la società sopravviva ma è molto importante pensare alla scuola perché nella scuola si impara ad avere il rispetto reciproco ad avere si può imparare cioè a rispettare le diverse culture a rispettare le diverse tradizioni rispettare i diversi difetti non non giudicare i difetti ma comprendere quali sono e qual è la possibilità di trasformare questi contrasti di difetto in buon effetto io vorrei concentrarmi ancora un attimo su ciò di cui ci hai parlato sulla demopraxia e sullo strumento del forum e vorrei chiederti di raccontarci ancora un po' di questo processo di mappatura di incontro e di pianificazione sul piano di più anni come funzionano questi forum chi viene invitato ecco qui c'è arte della demopraxia vedi sono poche pagine queste poche pagine io consiglierei di guardare su internet sulla città dell'arte e andare a vedere l'arte della demopraxia perché ci sono spiegati questi tre punti che sono la mappatura la mappatura consiste nel raccogliere diciamo i nomi i nominativi delle imprese di qualsiasi livello che sono disposte a confrontarsi ad avvicinare le altre e quindi e quindi conoscendo appunto queste diverse imprese dare inizio ai forum nei quali appunto come ho detto si pongono delle degli obiettivi da discutere che sono fondamentali prima ho detto l'energia ma poi c'è la scuola c'è la comunicazione c'è la viabilità c'è lo sport c'è il turismo ogni sono tutti elementi che vanno messi insieme perché non pare ma per esempio sul turismo che non ci sono solo le aziende turistiche ma c'è tutto il comprensorio che si può ravvivare che può vivere bene se il turismo non è indirizzato su dei sistemi rigidi che escludono escludono il benessere comune per dirne una e poi dopo il forum naturalmente c'è il cantiere cantiere vuol dire la messa in pratica di quelle che sono le decisioni che vengono via via prese questo è quanto quale pensiero potresti riservare ai giovani come me quale augurio e invito ci rivolgi per in qualche modo mettere proprio in pratica queste nuove modalità di vivere insieme ci sono oggi molte possibilità di sviluppo che però secondo me richiedono una capacità di iniziativa il concetto di iniziativa che è stato convogliato verso il sistema consumistico oppure che è stato totalmente mortificato dal sistema comunista bolshevico avere iniziativa vuol dire anche saper saper creare nuovi metodi nuove attività oppure rigenerare quelli precedenti secondo una visione che è quella della sostenibilità inevitabile oggi la sostenibilità è inevitabile e quindi pensare che io non posso dire individualmente per professione per professione cosa si deve fare però c'è qualche cosa che noi cerchiamo di fare a Cittadinarte e questa è la scuola di sapere che tutte le professioni finora portate avanti sono buone bisogna soltanto inserire il fenomeno creativo la creazione come elemento dinamico per rendere nuova nuova e viva e responsabile l'attività futura ecco che io parlo di investimento non possiamo diciamo troncare il vecchio investimento il sistema della fabbrica di ieri ha bisogno di sapere come diciamo andare avanti se andare avanti col vecchio sistema o col sistema nuovo nuovo che modifica la vita sociale e quindi si parla di nuovo investimento mentre si sta consumando quello vecchio e quindi la scuola ti deve permettere di imparare a creare qualche cosa che si immette nel sistema modificando quello esistente quindi è una scuola alla fine Città dell'arte offre una scuola professionale dove l'arte è la dinamica creativa che permette di produrre nuova società ma nuova economia nuova politica d'altra parte abbiamo vedete qui abbiamo questo simbolo questo simbolo che è la formula trinamica questa è la formula della creazione che è a disposizione di tutti sia singolarmente che socialmente bisogna sapere che ognuno di noi è per esempio tanto positivo quanto negativo tanto mostruoso quanto virtuoso e ognuno di noi abbiamo questi due elementi siamo duplici però dobbiamo gestire la duplicità tra due persone c'è la duplicità c'è il mostro da una parte e la virtù dall'altra ma io sono mostro di virtù tu sei mostro di virtù quindi dobbiamo dobbiamo far sì che i nostri elementi si trasformino in qualche cosa in cui abbiamo un controllo sensato un controllo responsabile un controllo che chiamiamo adesso la nuova creazione creiamo insieme è il simbolo della creazione avviene sempre che due elementi uno sta in un cerchio l'altro nel cerchio opposto si incrociano si incontrano si fondono nel cerchio centrale e producono un elemento nuovo che non esisteva da una parte c'è l'idrogeno dall'altra c'è l'ossigeno al centro si crea l'acqua c'è 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 il caldo e c'è il freddo al centro si crea la pioggia c'è sempre una dualità c'è la tesi e c'è l'antitesi al centro c'è una sintesi ecco ci può essere ci può essere la dittatura e l'anarchia la dittatura da una parte l'anarchia che è il suo opposto dall'altra ma al centro c'è la demopraxia grazie mille prego abbiamo toccato compreso nuove cose e toccato punti molto io credo che Biella possa essere veramente diciamo il luogo diciamo in cui si esercita si produce questo cambiamento che nasce dall'arte presuntuosamente nel senso che si presume che questo possa funzionare poi per il mondo grazie prego grazie a tutti Grazie a tutti